Nella seduta del Consiglio Comunale di oggi, in prosieguo della trattazione del gennaio scorso, è stata approvata la delibera che autorizza l'affidamento alla Napoli Servizi dell'attività di manutenzione straordinaria del patrimonio immobiliare comunale. E subito dopo l'Aula ha trattato l'elezione del Vicepresidente del Consiglio Comunale, in seguito alle dimissioni dalla carica della consigliera Elena Coccia. Il criterio scelto è stato quello di affidare questo ruolo alle opposizioni, che hanno presentato due candidati, e dalla fine è risultato eletto il consigliere Marco Nonno del gruppo Fratelli d'Italia, che ha ottenuto 21 voti contro i 13 di Giuseppe Mundo, del Popolo delle Libertà. Ci speravo ovviamente, ma la soddisfazione è grande ed è direttamente proporzionale alla responsabilità che si assume, perché non è facile ricevere tanti voti e soprattutto riceverli da parte della maggioranza. È un riconoscimento, non voglio autocelebrarmi, è un riconoscimento del lavoro fatto in questi anni e negli anni passati. Io ringrazio ovviamente, come ho detto in Aula, tutti quelli che mi hanno sostenuto e ringrazio anche chi non mi ha sostenuto. Da questo momento in poi, quando sarò chiamato dalle istituzioni a ricoprire quell'incarico, cercherò di farlo con dignità, con rispetto per le istituzioni, con lealtà soprattutto nei confronti di questa città che merita molto di più di quello che riceve.